Bravo sei, in silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi, siamo praticamente agli sgoccioli perché la prossima settimana inizierà veramente una marea di novità. Ci sarà la season 5 Furiosa, la season 5 Reloaded, la prossima settimana ci sarà il reveal del multiplayer di Vanguard, inizierà la beta multiplayer di Vanguard. Quindi mettetevi comodi perché vi devo dare una marea di notizie, un bel mi piace, arriviamo a 500. Iscrivetevi per non perdere tutte le ultime notizie sul mondo di Call of Duty con il video giornaliero qui su YouTube. Alle 13.30 saremo in live e giocheremo insieme e rispondere a tutte le vostre domande e dubbi sul mondo di COD. Tutti i miei social in descrizione troverete anche tutti i vari codici sconto, se volete comprare la PSN Card, codici per comprare giochi scontati su Enebba. Se vi volete regalare un controller completamente personalizzato in controller, se è tutta l'attrezzatura di gioco utilizzo, oppure se volete comprare tastiere, mouse, monitor scontati, via dicendo, MSI. Tutti i link in descrizione così vi potete divertire. Ma adesso vi riporto in elenco tutte le date degli aggiornamenti dedicati alla Season 5 Reloaded e Season 5 Furiosa nella versione italiana, che verrà rilasciata il 9 di settembre su Warzone e su Cold War. Allora, l'update di Cold War avverrà l'8 settembre alle ore 6 italiane. L'update di Warzone avverrà il 9 settembre alle 6 italiane. La data d'inizio, ovviamente, lo sblocco dei contenuti della Season 5 Reloaded avverrà il 9 settembre alle 6 italiane. Al momento le date del pre-download non sono state ancora confermate, ma normalmente accade tutto quanto un giorno prima per, ovviamente, non appesantire i server, ovviamente, versione PlayStation. Per Cold War, come visto nelle precedenti volte, il pre-download dovrebbe avvenire, invece, due giorni prima dell'inizio della Season 5 Reloaded, mentre per Warzone, appunto, dovrebbe essere soltanto per diversi utenti, o meglio, soltanto per una piccola parte degli utenti di PlayStation, il giorno prima, mentre per tutti gli altri, ovviamente, il 9 settembre alle 6 italiane. Poi vi terrò aggiornati i suoi eventuali date del pre-download. Adesso vi riporto, invece, tutte le informazioni sull'evento I Numeri, che si derà, come sapete, durante la Season 5 Reloaded esattamente il 21 settembre. Installate inizialmente all'inizio della stagione, quindi le stazioni di trasmissione mobile intorno a Verdansk, quei nuovi camion che abbiamo visto con le antenne, inizieranno presto ad amplificare i nassi del programma Dragovic H, le trasmissioni di numeri in tutta la regione di Verdansk. Questi sono il fulcro dell'evento I Numeri, insieme a molte ricompense a tempo limitato per operatori abbastanza coraggiosi da indagare su questi camion e piazzati, a quanto pare, da Perseus. Questo sarà un evento a tempo limitato. Inizierà il 21 settembre alle ore 19 italiane. Sebbene gli operatori abbiano recentemente segnalato rumori ed immagini strane quando si trovano vicino a questi camion, ci sono due incentivi per chiunque sia disposto ad interagire con queste due stazioni di trasmissione mobile. Il primo è un bonus istantaneo di 2.000 dollari in contanti nella partita in corso, più che sufficiente per un set di piastre corazzate in una stazione di acquisto. Il secondo invece è direttamente legato alle 20 numeri e sarà a tempo limitato. Per ogni stazione di trasmissione mobile attivata durante l'evento, riceveremo una ricompensa esclusiva come un adesivo, un biglietto da visita, un ciondolo o doppi punti esperienza. Oltre a nuove sfide in warzone incentrate sulle stazioni di trasmissione mobili, l'evento in numeri include anche una serie di nuove sfide all'interno di Black Ops Cold War basate sulle nuove mappe e sulle nuove modalità della Season 5 Reloaded. Attraverso queste nuove sfide potremo sbloccare ancora più ricompense estetiche e soprattutto la nuova arma, Damnischia 6, quindi dovremo ragazzi trovare informazioni e soprattutto indagare sulla questione di Perseus per quanto riguarda l'evento, i numeri. Season 5 Reloaded sarà importante anche perché introdurrà due nuove modalità mai viste prime all'interno di Warzone. Il 9 di settembre arriverà la nuova modalità Clash nella versione italiana a scontro basata sulla modalità Zuffa a squadre. Scontro prende ari selezionare di Verdansk e mette due squadre 50 contro 50 l'una contro l'altra in una battaglia di responi limitati a 500 punti. Gli obiettivi della missione sono ovviamente i seguenti guadagnare i punti eliminando i nemici, completando contratti per i premi partita ma si potranno anche raccogliere diversi potenziamenti sul campo di battaglia e dei nemici sconfitti. Si potranno inoltre utilizzare le proprie classi, le proprie armature, ci sarà denaro sparso per la mappa da spendere in stazioni di acquisto e ovviamente i veicoli. L'altra modalità nuova è Iron Trials 84, nuova modalità che viene indicata nel blog di Call of Duty come la modalità Battle Royale più dura di Verdansk. Poi non appena ci saranno maggiori dettagli tornerò appunto con un video dedicato. Season 5 invece introdurrà anche come abbiamo visto dalla roadmap di ieri anche una nuova arma da mischia. Quest'arma da mischia a doppia impugnatura spesso utilizzata nelle arti marziali furtie che verrebbe da pensare subito alle tartarughe ninja sarà la prima arma ad essere assegnata tramite un evento a tempo limitato. Centinaia di anni fa è stata introdotta sull'isola di Okinawa e alla fine è stata adottata dalla polizia locale giapponese per aiutare a arrestare a quanto pare i criminali. Infatti per tutti i giocatori che completeranno tutte e nuove le sfide all'interno di Warzone e di Black Ops e Cold War durante l'evento i numeri riceveranno questa nuova arma da mischia chiamata Sai che è ovviamente l'arma che abbiamo visto come vi stavo dicendo in maniera ironica dalle tartarughe ninja. Sono stati inoltre svelati i principali bundle che verranno rilasciati durante la Season 5 Reloadide soprattutto quelli che conteranno i due nuovi operatori Hudson e la skin per Judd Dredge ci saranno inoltre due nuove tipologie di bundle Oktoberfest e Motocross questi due nuovi bundle infatti lanceranno una nuova funzionalità quella di sbloccare delle sfide esclusive per guadagnare Call of Duty aggiuntivi quindi praticamente dei bundle che danno delle ricompense ma al suo interno ci saranno delle sfide da completare per ottenere Call of Duty Point gratis. Gli altri bundle in arrivo sono ovviamente Hudson Operator Bundle, Jujitsu e Dredge a tempo limitato, Ghost Ship Mastercraft Bundle e Chemical Reaction Ultra Skin Pro Pack nelle immagini ovviamente vedete tutti i dettagli. Tra ieri che inoltre ha rimosso la playlist Double Agent proprio ieri per dei problemi hanno dichiarato abbiamo temporaneamente rimosso la playlist perché stiamo esaminando un problema di stabilità. Nelle ultime ore si è parlato tanto della nuova mappa di Warzone addirittura Modern Warzone aveva svelato che nella nuova mappa del falsifico ci sarebbero potuti stare degli animali si parlava addirittura di squali e scimmie. Ravensoft era smentito proprio in queste ore la notizia in merito alla possibilità di vedere animali sulla loro nuova mappa dichiarando ci stiamo morendo dalle risate. Vi terrò aggiornati. Raggiungendo invece il livello 17 dell'alpha che si sbloccava appunto su Vanguard quando abbiamo giocato la scorsa settimana appariva un nuovo perk che non era possibile utilizzare chiamato Tattico. Bene Tom Henderson in queste ore ha svelato l'utilità di questo nuovo perk. Il perk ci consentirà di rifornire il nostro equipaggiamento tattico ogni 30 secondi. Chiudiamo con delle curiosità. L'insider Alex Kod ha detto che secondo le sue informazioni e secondo i file di gioco Alex Mason sarà presumibilmente l'operatore principale per la stagione 6 la stagione che chiude ovviamente l'integrazione tra Koldor e Wharton. Ieri sera diversi siti specializzati Call of Duty Influencer hanno ricevuto invece del materiale pubblicitario e ovviamente promozionale dedicato a Vanguard. Vi faccio vedere queste immagini arrivate appunto al sito Charlie Intel. Questa scatola si potrà aprire soltanto il 7 di settembre. Come sapete il 7 di settembre sarà all'ore 19 il reveal del multiplayer. Per il discorso ore 19, proprio da ieri sera ore 19 invece sono attivi i doppi punti esperienza soltanto su Koldor durante appunto questo periodo di prova gratuita. Se volete provare Koldor lo avrete gratis fino al 7 di settembre. Doppi punti esperienza giocatore appunto su Koldor anche questi termineranno alle ore 19 del 7 di settembre. Questo era tutto quello che volevo dire nuovo video informativo e giornaliero sul mondo di Call of Duty. 500 mi piace, spaccate il tasto di like, iscrivetevi se siete nuovi. 13.30 in live, piattaforma viola e domani ci vediamo come sempre ore 7 qui su YouTube con un nuovo TG Code.